Il mio vicino Radilov D'autunno le beccacce stanno spesso nei vecchi giardini di Tigli. I tali giardini, da noi nella provincia di Oriol, ce n'è parecchi. I nostri bisnonni, al momento di scegliersi il sito per l'abitazione, riservavano immancabilmente un paio di desiatine di buona terra per farne un frutteto con viali di Tigli. Dopo una cinquantina o al massimo una settantina d'anni, queste ville, nidi di nobili, a poco per volta sparivano dalla faccia della terra. Le case infracidavano o erano vendute per essere demolite. Gli annessi in muratura si tramutavano in mucchi di rovine. I meli morivano e se ne facevano legna da ardere. Recinti e siepi venivano distrutti. Solo i Tigli continuavano a crescere a piacer loro e ora, circondati da campi arati, parlano alla nostra spensierata generazione dei defunti padri e fratelli d'altri tempi. Bell'albero, il vecchio Tiglio. Lo risparmia perfino la spietata scure del nostro contadino. La sua foglia è minuta, i rami possenti si stendono da tutte le parti. Sotto di essi l'ombra è perenne. Un giorno, vagando con gli ermolai per i campi a caccia di pernici, scorsi da una parte un giardino abbandonato e mi diressi là. Appena varcatano in margine, una beccaccia si revò con strepito da un cespuglio. Sparai e in quel momento stesso, a pochi passi da me, risonò un grido. Il viso spaventato d'una fanciulla si affacciò da dietro gli alberi e subito disparve. Gli ermolai mi si avvicinò correndo. «Perché sparate qui? Qui si abita un proprietario!» Non ebbe il tempo di rispondergli, né il mio cane fece in tempo a portarmi con dignitosa gravità l'uccello che avevo ammazzato, che sudirono passi affrettati, e un uomo d'alta statura, baffuto, uscì da una macchina e si fermò dinanzi a me con aria scontenta. «Mi scusai come potei», dissi il mio nome e gli offersi l'uccello ammazzato nei suoi possessi. «Volentieri accetterò la vostra selvaggina, ma a un patto che resterete a pranzo da noi». Confesso che non mi rallegrai molto della sua offerta, ma ricusare non era possibile. «Sono un proprietario di qui e vostro vicino, Radilov. Forse avrete udito di me», seguitò il mio nuovo conoscente. «Oggi è domenica e il pranzo di casa mia dovrebbe essere passabile, se no non vi avrà invitato». Risposi quel che si usa in tali casi e mi avviai dietro a lui. Una stradetta ripulita di fresco ci condusse rapidamente fuori dal boschetto di Tigli. Entrammo nell'orto. Tra vecchi meli e infittiti cespugli d'uva spina svariavano le tonde bocce verde pallido dei cavoli. Il luppolo avvolgeva le sue spirali sulle alte stecche e le aiole si drizzavano folte le brune bacchette col loro groviglio di piselli insecchiti. Grosse zucche piatte sembravano sdraiate per terra. I setrioli sbucavano da sotto le angolose foglie piene di polvere. Lungo la siepe ondeggiava alta l'ortica. In due o tre punti crescevano il mucchio, il caprifoglio tartaro, il sambuco, la rosa selvatica, resti delle aiole d'un tempo. Vicino a un piccolo vivaio pieno d'acqua rossastra e viscida si vedeva un pozzo circondato da pozzanghere. Le anatre guazzavano e zoppicavano affacendate in queste pozzanghere. Un cane, tremando in tutto il corpo e socchiudendo gli occhi, rosicchiava un osso sul tratto. Una mucca pezzata lì accanto strappava pigramente l'erba battendosi ogni tanto la coda sulla magra schiena. La viottola svoltò da una parte. Da dietro ai grossi citisi alle betulle occhieggiò verso di noi una vecchia casetta grigia dal tetto di assie con la scaletta storta. Radilov si fermò. Tuttavia, dissegli, guardandomi monariamente dritto in viso, ora che ci penso, forse voi non avete nessuna voglia di entrare da me. In tal caso, non lo lasciai finire e lo assicurai che invece avrei avuto molto piacere di pranzare con lui. Allora, come volete, entrammo nella casa. Un ragazzo in un lungo caffetano di grosso panno azzurro cupo ci venne incontro sul terrazzino. Radilov gli ordinò subito di portare della vodka agli ermolai. Il mio cacciatore si inchinò rispettosamente alle spalle del generoso donatore. Dall'anticamera, tapezzata di vari quadri multicolori con gabbiette appese, passammo in una piccola stanza, lo studio di Radilov. Mi tolsi gli arnesi da caccia, posai il fucile in un canto. Il ragazzo dalla giubba lunghe falde mi ripulì con impegno. E ora andiamo in salotto, disse affabilmente Radilov. Vi farò far conoscenza con mia madre. Lo seguì. Nel salotto, sul divano di mezzo, era seduta una vecchietta di bassa statura, in veste marrone a cuffia bianca, con un viso magrolino e buono, lo sguardo timido e malinconico. Ecco mamma, vi presento il nostro vicino. La vecchia si sollevò e mi salutò, senza lasciare andare dalle mani scarne una spessa borsa di lana a forma di sacco. È molto che siete venuto dalle nostre parti? domandò con voce debole e piana, battendo le palpebre. No, non è molto. Avete intenzione di rimanere qui a lungo? Fino all'inverno, credo. La vecchia tacque. Ed ecco qui, riprese Radilov, indicandomi un uomo alto e magro che non avevo osservato nell'entrare in salotto. Fyodor Mikheitsch, su, via Fedia, mostra la tua arte all'ospite. Perché ti sei ficcato in un angolo? Fyodor Mikheitsch si alzò subito dalla sedia, tolse dal davanzale un violino da strapazzo, prese l'archetto, non dall'estremità come bisogna, ma nel mezzo si appoggiò il violino al petto, chiuse gli occhi e si mise a danzare, canticchiando una canzonetta e grattando le corde. All'aspetto poteva avere settant'anni. Un lungo sopravvito di nanchino gli ciondolava malinconicamente sulle membra secche ed ossute. E gli danzava. Ora scoteva arditamente, ora faceva ondeggiare lento la piccola testa calva, come stesse ispirando. Tendeva il collo venoso, batteva i piedi e talvolta, con visibile stento, piegava i ginocchi. La sua bocca sdentata emetteva una voce senile. Radilov dovette accorgersi dall'espressione del mio viso che a me l'arte di fedia non procurava gran piacere. Beh, va bene, vecchio mio, basta così, disse egli. Puoi andare a prenderti il guiderdone. Fyodor Mikheits posò subito il violino sul davanzale. Si inchinò prima a me, ospite, poi alla vecchietta, poi a Radilov e andò via. Era anche lui un proprietario, continuò il mio nuovo amico. E' ricco, ma si rovinò e ora vive qui, da me. Ma ai suoi tempi passava per il primo rompicollo della provincia. Portò via due mogli ai mariti, teneva dei cantori e lui stesso cantava e danzava da maestro. Ma non volete un po' di vodka? Il pranzo era in tavola. Una fanciulla, quella stessa che avevo intravisto in giardino, entrò nella stanza. Ed ecco anche Olga, osservò Radilov voltando leggermente la testa. La raccomando alla vostra bontà. Su, andiamo a tavola. Ci avviamo in sala da pranzo. Sedemmo. Mentre venivamo dal salotto e prendevamo posto, Fiodor Michels, a cui dal guiderdone gli occhietti si erano fatti lustri e il naso lievemente rosso, cantava e cheggiava o rombo di vittoria. Gli aveva messo in un canto una posata a parte su un tavolinetto senza tovagliuolo. Il povero vecchio non poteva vantarsi di soverchi a pulizia e perciò lo tenevano sempre a una certa distanza dagli invitati. Egli si segnò, sospirò e cominciò a mangiare come un pesce cane. Il pasto in realtà non era cattivo e come pranzo domenicale non vi poteva mancare né la gelatina tremolante né i venti di Spagna un pasticcino. A tavola Radilov che aveva servito una decina d'anni in un reggimento di fanteria e aveva fatto la campagna di Turchia si mise a raccontare. Io lo ascoltavo con attenzione e di sfuggita osservavo Olga. Di persona non era molto bella ma l'espressione risoluta e calma del suo viso la sua fronte larga e bianchia i capelli folti e in special modo gli occhi castani non grandi ma intelligenti limpidi e vivaci avrebbero colpito chiunque altro fosse stato al mio posto. Ella pareva seguire ogni parola di Radilov e più ancora che interesse le si dipingeva in viso un'attenzione appassionata. Per età Radilov avrebbe potuto essere le padre e gli le dava del tu ma io avevo subito indovinato che lei non era sua figlia. Durante la conversazione egli accennò alla sua povera moglie sua sorella aggiunse indicando Olga. Ella rapidamente arrossì e abbassò gli occhi. La vecchietta in tutto il pranzo non pronunciò una parola non mangiò quasi nulla e non offerse nulla neppure a me. Le sue fattezze spiravano come un'attesa pavida senza speranza quella affanno senile per il quale tanto dolorosamente si stringe il cuore dell'osservatore. Verso la fine del pranzo Fyodor Mikheits stava già per cominciare a celebrare i padroni di casa e l'ospite ma Radilov mi gettò un'occhiata e lo pregò di tacere. Il vecchio passò una mano sulle labbra sbatté le ciglia sinchinò e tornò a sedere ma ormai proprio sull'orlo della seggiola. Dopo pranzo io e Radilov andammo nel suo studio. Nelle persone che un pensiero o una passione occupa fortemente di continuo si nota anche di comune. Una certa qual somiglianza esteriore nei modi per quanto siano diverse le loro qualità attitudine la condizione sociale e l'educazione. Più osservavo Radilov più mi pareva che gli appartenesse al numero di tali persone. Parlava dell'azienda agricola del raccolto della falciatura della guerra dei pettegolezzi locali delle prossime elezioni parlava senza sforzo persino con interesse ma improvvisamente sospirava e si abbandonava sulla poltrona come un uomo affaticato da un grave lavoro. Si passava una mano sul viso. Tutta l'anima sua buona e calda sembrava pervasa satura da un solo sentimento. Già mi aveva fatto stupire il fatto di non poter scoprire in lui né la passione dei cibi né del vino né della cazza né degli usignoli di Kursk né dei colombi malati di epilessia né della letteratura russa né dei cavalli ambienti né delle ungheresi né del gioco a carte o al biliardo né delle serate di ballo né delle gite ai capoluoghi di provincia o alle capitali né delle cartiere o degli zuccherifici né delle pergole dipinte né del tè né dei viziatissimi bilancini da tiro e neppure dei grossi cocchieri con la cintola fin sotto le accelle quei magnifici cocchieri ai quali Dio sa perché a ogni movimento del collo gli occhi si torcono e sembrano sgusciar fuori ma che possidente è mai questo insomma pensavo e intanto egli non si dava punto all'aria di un uomo tetro e scontento della sua sorte al contrario aspiravano da lui una bellevolenza non schizzinosa la cordialità e una quasi urtante prontezza a fare amicizia con chiunque capitasse vero è che nello stesso tempo voi sentivate che fare amicizia legarsi intimamente con qualcuno egli non poteva e non lo poteva non perché non sentisse la mancanza di altra gente ma perché tutta la sua vita si era temporaneamente ritratta in sé osservando Radilov io non potevo in alcuna maniera figurarmelo felice né allora né quando che fosse non era neppure un bel uomo ma nel suo sguardo nel suo sorriso in tutto il suo essere si celava un che di straordinariamente attraente proprio si celava e pareva che si sarebbe voluto conoscerlo un po' meglio amarlo certo in lui a volte appariva il proprietario e l'uomo della steppa ma era un uomo eccellente avevamo appena cominciato a parlare del nuovo capo della nobiltà distrettuale quando ad un tratto di sulla porta risonò la voce di Olga il tè è pronto passammo in salotto Fyodor Mikheic come di anzi stava seduto nel suo cantuccio tra la finestra e la porta con le gambe umilmente ripiegate sotto di sé la madre di Radilov faceva la calza attraverso le finestre aperte spiravano dal giardino la frescura autunnale e il profumo dei meli Olga era faccendata a versare il tè io la guardavo ora con attenzione maggiore che a tavola parlava pochissimo come tutte le signorine di provincia in genere ma almeno io non notavo in lei il desiderio di dire qualcosa di bello insieme con un tormentoso senso di vuoto ed impotenza ella non sospirava come per una sovrabbondanza di sensazioni indefinibili non roteava gli occhi sotto la fronte non sorrideva con aria sognante e vaga guardava tranquilla e indifferente come chi si riposi da una grande felicità o da un grande affanno il suo passo i suoi movimenti erano risoluti e liberi mi piaceva molto io e Radilov ci mettemmo a discorrere non remmento più per quale via giungemmo alla nota osservazione che spesso le cose più insignificanti producono sulle persone maggiore impressione di quelle gravissime sì disse Radilov l'ho sperimentato su di me io lo sapete sono stato ammogliato non molto tempo tre anni mia moglie morì di parto credevo che non le sarei sopravvissuto ero terribilmente addolorato ero accasciato ma non potevo piangere andavo attorno come un pazzo la vestirono come d'uso la deposero sulla tavola ecco in questa stanza venne il prete vennero i chierici si misero a cantare a pregare a spandere in senso io mi inchinavo fino a terra e non versai la più piccola lacrima il cuore mi si era come impietrito e la testa anche e mi ero appesantito tutto così passò il primo giorno lo credereste la notte mi addormentai perfino la mattina dopo mi avvicinai a mia moglie era d'estate il sole la rischiarava dalla testa ai piedi vivamente d'un tratto scorsi Quiradilov ebbe involontariamente un fremito sapete che cosa? il suo occhio non era chiuso del tutto e su quell'occhio camminava una mosca io cascai giù come un fascio di fieno e quando rinvenne mi misi a piangere a piangere non la potevo smettere Radilov tacque io lo guardai poi guardai Olga non dimenticherò mai l'espressione del viso di lei la vecchietta posò la calza sui ginocchi tirò fuori dalla borsa il fazzoletto e si asciugò furtivamente una lacrima Fyodor Mikheic in un tratto ci alzò afferrò il suo violino e con voce rauca e selvaggia intonò una canzoncina egli voleva probabilmente distrarci ma tutti sussultammo alla prima nota e Radilov lo pregò di chetarsi del resto continuò egli quel che è stato è stato il passato non lo farai tornare e infine tutto è per il meglio in questo mondo come disse mi sembra Voltaire soggiunse in fretta sì replicai certamente inoltre ogni sventura si può sopportare e non v'è mai la situazione da cui non si possa uscire fuori credete osservò Radilov ebbene forse avete ragione in Turchia rammento giacevo all'ospedale mezzo morto avevo una febbre infettiva beh dell'ambiente non potevamo lodarci roba da tempo di guerra si intende e ringraziar Dio per giunta e a un tratto ci portano ancora dei malati dove metterli? un medico cerca di qua e di là non c'è posto ed ecco che si accosta a me domanda all'assistente vivo? quello risponde stamane era vivo il medico si china ascolta respiravo ancora l'amico non resse ma che natura stupida si ha da avere dice è lì che muore morirà di sicuro e non fa che gemere la tira a lungo occupa soltanto posto e impiccia gli altri beh pensai tra me te la vedi brutta Mikhailo Mikhailovic e invece guarì e sono tuttora vivo come vi compiazzerete di vedere dunque avete ragione avrei ragione in ogni caso risposi anche se foste morto sareste sempre uscito dalla vostra pessima situazione si capisce si capisce soggiunse egli battendo forte una mano sulla tavola basta solo risolversi che senso c'è a restare in una cattiva situazione a che pro indugiare tirarla in lungo Olga si alzò rapida e uscì in giardino su Fedia un ballabile esclamò Radilov Fedia balzò su si mise a camminare per la stanza con quel passo elegante speciale con cui cammina la nota capra intorno all'orso addomesticato e intonò quando è il nostro portone all'ingresso si udì lo strepito di un carrozzino da corsa e dopo alcuni attimi entrò nella stanza a un vecchio d'alta statura largo di spalle e robusto lord novelist Ovzianikov ma Ovzianikov è così notevole e originale personaggio che noi col permesso del lettore ne discorreremo altrove per conto mio aggiungerò solo che il giorno seguente io e gli ermolai all'alba ci avviamo a caccia e dopo la caccia a casa che dopo una settimana passai nuovamente da Radilov ma non trovai a casa né lui né Olga e di lì a due settimane venne a sapere che era improvvisamente scomparso che aveva lasciato la madre ed era partito per non si sa dove con la cognata tutta la provincia si commosse e parlò di questo avvenimento e io solo allora capì definitivamente l'espressione del viso di Olga durante il racconto di Radilov esso non spirava allora soltanto compassione ardeva anche di gelosia prima di lasciare la campagna feci una visita alla vecchia Radilov la trovai in salotto giocava con Fyodor Mikheits a Duracki avete notizie di vostro figlio? le domandai in ultimo la vecchietta si mise a piangere io non le feci più altre domande su Radilov fine grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.